Il 5 agosto la chiesa di Our Lady Queen of the World a Richmond Hill vi invita a festeggiamenti in onore del Voto Santo di Manopello, rodare alle ore 14.45 Santa Mesta le 15.30 per informazioni 905-884-7006. Il 5 agosto la comunità di Marina di Gioiosa Ionica invita tutti alla Santa Mesta alle ore 11, segue in processione e festeggiamenti in onore alla Madonna del Carmine presso Mary Lake a King Road. Il 10 agosto l'Amazeno Cultural Association festeggia San Lorenzo Martire, Santa Mesta alle ore 19.45 seguita da un infresco presso la chiesa di San Filippo Negri a Toronto. Inoltre il 12 agosto potete partecipare al picnic presso il Lazio Place situato a Bonn. Per informazioni 416-999-7725. Il 12 agosto la società San Marco organizza il 55esimo anniversario in onore a San Rocco presso il giardino del Columbus Center su Lorenz. Santa Messa alle ore 9 in italiano nella chiesa di San Giove Bosco e alle ore 15 preghiede, processioni e festeggiamenti. Per informazioni 416-745-1696. Il 12 agosto la comunità di San Lippolito celebra la Messa in onore del Santo alle ore 12 presso la chiesa di San Bernardo su Lorenz e M.G. Per informazioni 416-241-6738. Il 12 agosto il comitato organizzativo invita tutti i monteleonesi e simpatizzanti a partecipare al 52esimo picnic in onore a San Rocco presso il Simon Gregorich Cultural Club a Newmarket. Per informazioni 416-285-9775. Carissimi telespettatori, siamo giunti alla conclusione di Ora Qui, che è portato a voi da Channel Radio TV International. Grazie di vero cuore di averci seguito. Noi vi diamo appuntamento a domani sera, sempre alla stessa ora. Vi auguriamo una felicissima serata. Tutta la trou di Ora Qui, vi saluta. Sembrano fazzoletti pianti Che stavano per il nostro amore Noi vi diamo 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 Noi vi diamo